The look of the hair! Beauty! Chiamo quindi Claudio Guardo, make-up artist! Buonasera a tutti! Bene, allora anche per te il mazzo di fiori da consegnare alla vincitrice, che è la numero 26! Qual è il tuo nome? Maria. D'ora? Serbia. Serbia, and how old are you? Sixteen. Sixteen. E allora, un grande applauso a questa bellezza!